Io volevo soltanto salutarti, vederti, questo stronzo si mette in mezzo. La smetti? La smetti di spiarmi, di girozzolare qui intorno? Ma cosa credi che non ti veda? Che fate, partite? Sì. E dove andate? All'aeroporto, ok? Partiamo per una vacanza. Per dove? Andiamo a Cuba. Possiamo? No. Non potete. Tu sta attento quando attraversi la strada, guarda sempre bene a destra e a sinistra perché ti mettono sotto. E ci manca solo che perdiamo l'aereo. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.